Ben trovati con il TgList di Telebari. G7 partirà alle 11 dall'eliporto del Vaticano per arrivare alle 12.30 a Borgo Egnazia Papa Francesco. Il Pontefice sarà accolto dalla Premier Giorgia Meloni, quindi il trasferimento alla residenza riservata dove sono previsti i primi colloqui bilaterali, tra cui quello con Zelensky, presidente dell'Ucraina. Alle 14.05 Meloni accoglierà ufficialmente il Papa nella corte di Borgo Egnazia per la foto ufficiale. Poi nella sala arena il Papa partecipa alla sessione comune e pronuncerà il suo discorso, al quale seguiranno altri interventi. Alle 19.45 Papa Francesco ripartirà in elicottero per il rientro in Vaticano. Grazie agli sforzi suoi e dell'ONU per riportare la pace in terre martoriate dalla guerra, la Puglia si arricchisce di idee che ci fanno crescere nella considerazione della comunità internazionale e grazie anche alla vostra presenza. La regione è cresciuta e oggi è stata scelta come sede naturale per ospitare il G7. Ci piacerebbe in futuro essere il luogo per ospitare un ufficio ONU per i bambini vittime di guerre. Lo ha dichiarato il presidente della regione Puglia, Michele Emiliano, rivolgendosi al segretario generale delle Nazioni Unite, Guterres, in occasione dei 30 anni del centro logistico dell'ONU a Brindisi. E adesso le altre notizie del TGLIS. Il sistema Sandrino esiste e Sandro Cataldo, se lasciato in libertà, potrebbe reiterare i reati per i quali è indagato. Questi in sintesi i motivi per cui il Tribunale del Riesame di Bari ha respinto l'istanza di revoca degli arresti domiciliari per Alessandro Cataldo, fondatore del Movimento Politico Sud al Centro, arrestato lo scorso aprile con le accuse di associazione a delinquere finalizzata alla corruzione elettorale. Le motivazioni del Tribunale sono state depositate oggi. La decisione è stata presa il 26 aprile scorso. Stavano percorrendo la Statale 16 a bordo della loro moto quando sono stati travolti da un'auto che proveniva a forte velocità alle loro spalle e accaduto in piena notte a Santo Spirito un uomo di 47 anni è morto sul colpo. La donna, che era in moto con lui, è stata trasportata in gravissime condizioni in ospedale. La politica ci presenteremo uniti il 23 e il 24 giugno e resteremo uniti anche dopo al governo della città. Lo dichiarano i due candidati sindaci del centro-sinistra a Bari Vito Leccese e Michele Laforgia il primo arrivato al ballottaggio con il candidato del centro-destra Fabio Romito. Sin da subito spiegano, sottoscriveremo il patto per la legalità e partendo dai rispettivi programmi lavoreremo per condividere un programma comune che possa rappresentare l'intera coalizione. Operazione congiunta degli agenti della Polizia Locale di Bari e di Amiu per l'individuazione di alcuni vandali seriali operativi nella zona del quartiere San Paolo, in particolare in via Pirè. Il risultato è frutto di un lavoro d'indagine che non si è limitato soltanto ad individuare gli incivili attraverso l'ispezione dei rifiuti abbandonati ma che ha richiesto un vero e proprio lavoro di intelligence. Nel dettaglio, in alcuni condomini della zona coperta dal servizio di raccolta porta a porta era diventata ormai prassi consolidata la mancata separazione dei rifiuti. E adesso le notizie dall'area metropolitana e dalla regione. Un incendio divampato nel primo pomeriggio in località Monte Caccia non lontano da Spinazzola, nel nord barese. Le fiamme, sulla cui natura sono in corso accertamenti da parte dei forestali hanno interessato quasi 150 ettari tra aree coltivate, macchia mediterranea e zone di pascolo. A domare il rogo, squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Barletta. I carabinieri di Taranto hanno tratto in arresto in due distinti episodi un 44enne di origini rumene e un 37enne tarantino presunti responsabili di atti persecutori e lesioni personali nei confronti delle rispettive partner. Il tarantino, secondo quanto riferito dalla vittima avrebbe colpito al volto la donna incinta con lo scopo di costringerla ad interrompere la gravidanza. A Massafra è stato invece arrestato il 44enne dopo che la vittima ha deciso di sporgere denuncia raccontando che le vessazioni fisiche e psicologiche sarebbero state portate avanti da diverso tempo. Un commerciante 65enne di Lecce Gianfranco Vergar è stato accoltellato davanti al lounge bar che gestisce nel cuore della Movida in via Maremonti. L'uomo colpito alla milza è stato portato in ospedale. Le sue condizioni non sarebbero gravi. L'aggressore Antonio Monaco di 58 anni è stato arrestato dai carabinieri mentre tentava la fuga. A quanto si è preso avrebbe colpito il commerciante con un fendente al culmine di una lite violenta. Tre persone tra cui un poliziotto in servizio a Brindisi sono state arrestate nell'ambito di un'inchiesta su una presunta tentata estorsione ai danni dei titolari di un'attività di gastronomia nel capoluogo Messapico in carcere con l'accusa di estorsione con l'aggravante del metodo mafioso Brian Maggi e Davide di Lena entrambi di 34 anni ai domiciliari il vice ispettore Ilario Zippo di 51 anni che risponde invece di accesso abusivo alla banca dati delle forze dell'ordine. E con il TGLIS è tutto grazie per averci seguito buon proseguimento grazie per aver guardato